Ciao, come stai? Bellissimo, grazie mille. L'attore inglese Ed Westwick, l'adorato Chuck Bass, il bad guy della serie Gossip Girl, è, per le stradine di Capri e Sorrento, tra i più acclamati protagonisti del Capodanno di Capri Hollywood, il festival di Pascal Vicedomini che lancia la stagione dei premi del nuovo anno. Io ti ammerò sempre, ti ammerò sempre anch'io. Stasera mi vedete vestito per bene come Chuck Bass, ma di solito sto in pigiama perché sono molto pigro. A farci gli auguri da Capri ci sono anche le attrici Madalina Ghenéa e Lina Sastri ed Enrico Vanzina. Vuoi dire buon anno? Buon anno. Ma si dice, non lo so se è vera questa cosa, però non si fanno gli auguri prima di, non so, è una cosa. Perché sono scaramantica, sono più napoletana di voi. Io credo che avremo un 2022 molto politicamente corretto, dovremo fare tutte le cose corrette, invece la bellezza della vita è ogni tanto di essere anche un po' scorretti. Allora da Capri Hollywood che è un posto meraviglioso qui a Sorrento, veramente che sia un anno buono. Stiamo salutando quest'anno di merda, non ne possiamo più. Si può dire in media? No. Allora faccio da Capri. Mi hanno detto che certe cose non si possono dire dell'anno che se ne sta andando. Allora non le diciamo, però siamo molto contenti che quest'anno se ne sta andando. Buon anno. Thank you. Grazie. Grazie.